ben trovati con filca news partiamo con il judo a pergine val sugana sono stati assegnati i colori del campionato italiano kata più di 50 le coppie qualificate che hanno partecipato molte delle quali reduci dall'europeo di malta che hanno potuto confrontarsi e testare le loro performance in vista del prossimo campionato del mondo che si terrà ad olbia agli inizi di ottobre i risultati sono disponibili e consultabili sul sito filca.it ancora per il judo la scorsa settimana è ritornato fabio basile il campione olimpico di rio de janeiro dopo due mesi di allenamento in giappone è rientrato per continuare la preparazione in vista del mondiale di budapest ecco le sue impressioni sono andato due mesi in giappone sono tornato oggi questa è stata una delle esperienze più difficili della mia vita e il giappone ha una grandissima umiltà a una grandissima senso di sacrificio per loro sacrificio sta alla base di tutto grande stima per questa per questa nazione qua e mi ha insegnato a non mollare mai io sono consapevole quando andrò a combattere a budapest in vista dei campionati del mondo ci saranno gli atleti che comunque vorranno battermi perché adesso non sono più l'outsider ora sono un po quello da battere l'uomo da battere però non ci sta problema il veleno che conservo ce l'ho e gira ancora più veloce di prima di rio quindi cosa vuol dire questo vuol dire che io sono pronto a combattere pronto a tornare sul tatami è pronto a dare grandissima soddisfazione alla mia italia alla mia bandiera quando si vince una medaglia d'oro così importante come quella dell'olimpiadi il trucco un po è non pensarci non pensare al peso che hai di portarlo avanti quindi io quando salgo sul tatami ogni giorno per combattere e quando salirò anche su tatami di budapest io non penserò a quello che ho fatto in passato perché quello è passato il passato è passato io ora darei darei tutto per risentire quell'inno di mameli tornare a quel giorno 7 agosto del 2016 però questo tutto lo sto ricreando con il sudore la fatica sacrificio penso che darò tantissima altra soddisfazione alla mia nazione alla mia bandiera siamo ora ai prossimi appuntamenti per la lotta dortmund ospiterà il campionato europeo juniores mentre a teheran si gareggerà nel torneo internazionale jadegar imam cap cadetti di stile libero e greco romana per il judo infine campionato europeo cadetti andrà in scena a caunas la appuntamento con filca news e alla prossima settimana